Un bentrovate telespettatori del circuito televisivo Giulia Italia, un nuovo appuntamento con Obiettivo Napoli, come sempre in nostra compagnia, l'onorevole Marcello Taglialatela, presidente dell'associazione Camposud. Ben trovato onorevole, torniamo ad occuparci, lo facciamo anche sulla scorta di diverse segnalazioni che sono prevenute alla nostra redazione, torniamo ad occuparci di degrado urbano e soprattutto di mancata manutenzione del verde pubblico in città. Lo facciamo tra l'altro anche alla luce di un recente fatto di cronaca con il rinvenimento di una donna, il cui corpo era senza vita, nei giardinetti di Scampia. Sì, ne avevamo parlato qualche giorno fa, io avevo denunciato una situazione incredibile che vede larghe zone della nostra città dove il verde pubblico è diventato oggetto e territorio di assoluto degrado e di abbandono. E purtroppo si è verificato in maniera probabilmente estrema quello che noi temevamo. Laddove vi è degrado e abbandono si rischia addirittura di non accorgersi che vi è il cadavere di una donna che è stata rinvenuta da ragazzi che si aggiravano, tra quella che è diventata una specie di piccola giungla di sterpaglie, in una zona della quale si parla spessissimo, quando le amministrazioni pubbliche vogliono farsi belle di un tentativo di recupero di parte della città, poi ci si rende conto che finita l'occasione della premiazione o di una cerimonia, l'abbandono continua. Ed è esattamente quello che è accaduto. E purtroppo è un bruttissimo segnale che viene dato alla città laddove le zone che dovrebbero essere utilizzate per vivere meglio, per un decoro, per un problema anche di ambiente, diventano esattamente al contrario, una occasione di degrado. L'altra volta facciamo riferimento ad un elemento che quelle poche zone della città nelle quali le aiole, i giardini sono tenuti bene, sempre vi è un privato che sponsorizza l'intervento di manutenzione. Bene, questo è un ulteriore elemento che dimostra come l'amministrazione comunale da sola non riesce oramai a fare più nulla e mi domando che fine abbiano fatto i dipendenti comunali che sono giardinieri. Io ricordo che ce n'erano un numero notevole probabilmente, oggi questo numero si sarà anche assottigliato, ma mi sembra veramente incredibile che nella città di Napoli, che si propone come città turistica, il verde pubblico viene trasformato o per vivacco, senza tetto, o in zone dove l'abbandono e l'incuria determinano addirittura la possibilità di ritrovare un cadavere dopo qualche tempo, e stiamo parlando di scampia, così come l'ulteriore esempio che avevo fatto era quello di Piazza Le Tecchio, che è una zona ancora più centrale. Certo, se l'amministrazione non riesce a garantire la manutenzione degli spazi verdi in città, perché non incentivare a questo punto il coinvolgimento dei privati? Ma questa è una soluzione che può aiutare l'amministrazione comunale, le amministrazioni pubbliche, immagino che questo sia un esperimento che tra l'altro non si faccia solamente a Napoli, anche da altre parti, il punto è un altro, laddove le amministrazioni comunali, stiamo parlando di Napoli, ma probabilmente questo problema c'è anche in altre città della nostra provincia, non curano il verde pubblico, che si trasforma in una zona di degrado e di abbandono, e in modo particolare in questi mesi, con la possibilità che siano aree dove blatte, insetti, infezioni la fanno da padrona, vi è anche un problema di responsabilità penale da parte dell'amministrazione comunale e del sindaco, che non dimentichiamo, è il primo responsabile della sanità nella città, quindi vi è un problema anche di responsabilità penale per un'amministrazione comunale che non dimostra di fare il minimo indispensabile per fare in modo che, non dico le fognature, non dico le caditoie, ma almeno i giardini dove teoricamente i bambini o le persone anziane potrebbero trovare un po' di rinfresco in questo periodo di particolare calura, sono costretti invece a convivere con il peggio che si possa immaginare, quindi vi è anche una possibile responsabilità di carattere penale da parte dell'amministrazione comunale, il magistrato deve rispondere in qualche modo di un operato che è di totale latitanza, io leggo dai giornali che spessissimo è a Roma, mi fa piacere che ci vada, che svolga un'azione a difesa della città, qualche volta ho la sensazione che è una difesa di facciata, poi alla fine purtroppo i risultati non arrivano e nelle cose che riguardano la vita comune dei cittadini i risultati siano addirittura peggiori. Ecco, secondo lei in questa mancata manutenzione c'è differenza tra centro e periferia? Nel centro capita spesso che si trovi un privato che si offre per una manutenzione delle aree di verde pubblico, in periferia questo ovviamente accade meno di frequente e questo crea un'ulteriore odiosa discriminazione tra zone e zone, tenendo conto che proprio in periferia spesso i ragazzi non hanno altre occasioni, soprattutto in questi mesi quando la scuola non c'è, di poter trovare aree che siano a disposizione, ma del resto noi abbiamo esempi dell'incuri dell'abbandono, uno di questi vi riguarda, riguarda la categoria dei giornalisti, l'ex Casina dei Fiori, Casina del Boschetto, quella che è stata per molti anni la sede dell'ordine dei giornalisti. Oramai saranno dieci anni che in totale abbandono e stiamo parlando di una struttura all'interno della villa comunale, di proprietà del comune di Napoli, ogni tanto esce una notizia relativa alle possibili attività di recupero di quella struttura e ci accorgiamo che invece è in totale abbandono, sembra un edificio bombardato e stiamo parlando del pieno centro della città di Napoli, a due passi dal mare, all'interno della villa comunale, in quella che dovrebbe essere la City, soprattutto per quello che riguarda l'aspetto della potenzialità turistica. È incredibile che si possano accettare situazioni del genere. Al di là della manutenzione del verde, parlando proprio di decoro, parlando di recupero, parlando di aree attrezzate, si potrebbe coinvolgere i privati anche con dei project financing? Tra l'altro la Casina del Boschetto era gestita da privati, se possiamo utilizzare il termine privato per l'ordine dei giornalisti, e furono cacciati, all'epoca era Bassolino il responsabile di quello che è stato un vero e proprio scippo nei confronti della città, perché poi quella è una struttura che veniva utilizzata da tutti per iniziative, manifestazioni, conferenze stampa. Da allora la parola privato viene vista in maniera negativa, ovviamente dipende da come viene utilizzato il privato. Se il privato garantisce comunque che un bene possa rimanere pubblico, possa essere utilizzato dalla popolazione in determinate aree, in determinati orari in modo gratuito, almeno si mette nelle condizioni la città di avere un bene. Se invece l'abbandono e la risposta al mancato coinvolgimento dei privati è un fatto assolutamente negativo. Le amministrazioni comunali poi alla fine si misurano nella loro capacità di azione, anche in queste cose, dai giardini alle strutture, alle ville comunali, nella nostra città di aree che sono state inaugurate come aree di villa comunale pubblica nei vari quartieri della città, ne abbiamo tanti e sappiamo bene che quasi tutti sono in uno stato di incuria. Persino la floridiana al vomero è stata chiusa per qualche tempo perché vi era un pericolo di crollo di alberi e chissà se questo pericolo è stato realmente scongiurato. Bene, termina qui la puntata di oggi di Obiettivo Napoli. Grazie al Presidente dell'Associazione Camposud, Marcello Taglialatela, ci vediamo domani per una nuova puntata. Buonasera a voi tutti e continuate a seguire la programmazione della nostra rete. Arrivederci. Buonasera.